A Terra Nuova bracciolini, serie di iniziative per animare le notti di primavera ed estate. Con giugno al via le serate di Una Notte a Terra Nuova. Ogni venerdì sera tematiche diverse per animare il centro cittadino per l'intero mese. Piccole notti bianche insomma per un divertimento. Che spazi tra tutte le età. Il venerdì 5 giugno inizia Una Notte a Terra Nuova, la serata diciamo dedicata ai più giovani però e non solo. Ci saranno in piazza i pub e i locali per poter cenare e poter diciamo bere. Poi ci sarà Enrique Finez in piazza della Repubblica e poi ci sarà a seguire il strano baccano con Francesco Moneti. E in apertura durante la cena la filarmonia Giuseppe Verdi tra Nuova bracciolini. Quindi sarà uno spettacolo completo ma non solo perché nelle altre piazze ci saranno sia spettacoli per bambini sia spettacolo di liscio e anni 50 e 60. Quindi diciamo musica per tutte le età, divertimento per tutti, ingresso libero, vi aspettiamo. Gli appuntamenti nel mese poi proseguiranno con le scuole di ballo il 12 giugno, uno spettacolo musicale il 19 e l'ambientazione. Italo-Argentina nell'intero weekend del 26 giugno.